Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore mio e Dio mio, per il tuo amore e la tua misericordia, guarisci questo povero figlio da questa triste malattia, dalla quale finora nessuno è riuscito a liberarmi, e fa che io, col tuo aiuto, conservi sempre la mia anima, purificata da ogni peccato grave. Gesù mio, sii protezione e conforto all'anima mia, sii mia difesa contro ogni tentazione e coprimi con lo scudo della tua verità, sii il mio compagno e la mia speranza, difesa e riparo contro tutti i pericoli dell'anima e del corpo. Guidami nel vasto mare di questo mondo e degnati di consolarmi in questa tripolazione. Mi sia di porto sicurissimo l'abisso del tuo amore e della tua misericordia, così potrò vedermi libero dalle insidie del demonio. Fa, Gesù mio, che il mio cuore e il mio pensiero siano sempre fissi in te, e per salvarmi non guardare, Gesù mio, agli scarsi meriti delle mie buone opere. Mi salvino, Padre mio, il tuo amore e la tua misericordia. Padre, perdonami quando non sono riconoscente per il tuo amore. Padre, perdonami quando non fisso lo sguardo sulla tua croce. Padre, perdonami quando sono ripiegato solo su me stesso e non apre il cuore ai tuoi desideri. Padre, perdonami quando sono diviso in famiglia, nella Chiesa, nella nostra nazione. Padre mio, non mi abbandonare. Sono malato, ma voglio guarire, perciò ricorro a te, mio medico e Signore. Padre, non mi abbandonare. Non guardare se la medicina è amara o se dovrò soffrire per sradicare da me ciò che ti dispiace. Perché, con il tuo aiuto, sono disposto a tutto. Padre mio, non mi abbandonare. O Dio, Trinità d'amore, tu vedi di quanta potenza l'amore. Hanno bisogno l'uomo odierno e il mondo. Di quanta potenza dell'amore misericordioso. Ti preghiamo, non venire meno, sii infaticabili, sii costantemente più grande di ogni male che è nell'uomo e nel mondo. Sii più grande di quel male che è cresciuto nel nostro secolo e nella nostra generazione. Sii più potente con la forza del Re Crucifisso. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo è il Crucifisso dell'amore misericordioso, venerato nel santuario di Colle Valenza, in Umbria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.